E' stato sorpreso e in possesso di 17 kg di marijuana, un 32enne albanese finito in manette. Veniamo i fatti. I finanziari della tenenza di Altamura, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in città per sottoporla a controllo un'autovittura condotta da un cittadino albanese, risultato sprovvisto di documenti. I successivi accertamenti, volti ad individuare l'esatta identità dell'uomo, facevano scoprire che sullo stesso era pendente un decreto di espulsione e pertanto veniva tratto in arresto per aver violato la normativa sull'immigrazione. Dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di custodia cautelare, il 32enne albanese faceva insospettire i militari mostrando un atteggiamento irrequieto, tale da indurre gli operanti a perquisire la sua abitazione situata nel centro altamurano. I finanzieri rinvenivano così due borsoni, occultati in uno stanzino chiuso a chiave, con all'interno ben 17 parenti di marijuana di un chilogrammo ciascuno. Il giovane albanese è stato tratto in arresto. Il giovane albanese è stato tratto in arresto.